Se io fossi stato l'intervistatore, siete d'accordo su questo fatto che sta cambiando tutto rispetto ai tempi dei vostri genitori? A me fa ridere questa cosa che cambia tutto, no? In realtà, cioè, ti dirò, io sono cresciuto già in una generazione mista. Sì. Sia a livello proprio, cioè con un'apertura mentale già aperta, quindi per me in realtà non è mai cambiato niente. Io sono arrivato adesso a 26 anni dopo aver vinto Sanremo, che mi dicono, tornate nel tuo paese, che sono nato al Mangiagalli. Che mi sembra che adesso, no, cioè che questo pensiero, no, mi è arrivato adesso dopo 26 anni. Io ho sempre pensato appunto che siamo comunque tutti uguali, tutti sullo stesso piano. Ti rendi conto che chi comanda i media, chi comanda la società, rimane fermo mentre la società sotto cambia? Esatto. Ma perché è vecchio?